mi trovo in questo momento con Cicara di Marco oggi grandissima goleada oggi con il suo esordio da portiere Berta è sparito chi l'ha visto non si sa Berta è sparito ha avuto dei problemi con la società a quanto pare quindi ha mollato ci ha mollato strada facendo e quindi oggi è toccato a me sostituire in questo ruolo difficoltoso ma ce l'abbiamo fatta la partita è andata come doveva andare senti un bel riassunto allora la partita è finita tanto a poco non ti so dire quanto è stata una bella partita facile loro praticamente hanno fatto tre tiri in porta ovviamente tre gol e niente dai è andata come doveva andare però è stata una partita non cattiva loro dei bravi ragazzi educati insomma è stata una bella domenica dai senti dove contro chi giocate la prossima la prossima giochiamo con il gaggio e lì speriamo di essere al completo e di poter dire la nostra una bella partita domenica ve lo ringraziamo la disponibilità intanto in bocca al lupo per la prossima a voi